ariete ecco che l'emozione può giocare brutti scherzi per i single potrebbe essere il giorno del primo appuntamento o dell'incontro fortuito toro rimanda spese investimenti acquisti non indispensabili giove rende instabile la tua situazione economica e consiglia di congelare la situazione attuale gemelli tra alti e bassi senza lasciare che siano gli eventi a farla da padrone impone il tuo modo di essere e pensare fai sentire la tua voce cancro atmosfera un po pesante per via di venere un problema legato alla gestione della casa o della famiglia in generale sarà motivo di asti o scintille leone trattative quasi concluse e oggi potresti portare a casa un accordo e una opportunità isperata cedi alla tentazione vergine nessuno può limitare la tua felicità oggi sei molto figlio dei fiori peace and love e tutto sembra stia girando nel verso giusto bilancia cercare un confronto non vuol dire abbassare le armi ma solo provare a confrontarsi in modo pacifico scorpione perché farsi mancare un po di sana polemica capi colleghi chiunque andrà bene per attaccar bottone keep calm e non pungere sagittario venere scatena gli ormoni giornate di grande spensieratezza e desiderio di accoppiamento capricorno oggi non hai voglia di parlare chiuso come sei nel tuo mondo al lavoro per il tuo team sarà complicato cercare di interagire con te acquario giove ti regalerà oggi una buona dose di fortuna e anche al lavoro dopo una mattinata di faticosa tensione nel pomeriggio tutto volgerà nel modo migliore pesci tutto bene e nella norma se non fosse per la tua stanchezza oggi cronica forse hai esagerato con l'attività fisica rallenta